Giselle è arrivata in ritardo ma ora sta lavorando Le abbiamo mandato l'aereo privato perché ha perso la coincidenza Non mi stupisce Comunque questo è un cliente che paga e non ci sono problemi Le dive si fanno desiderare Sì, desiderare e pagare A dopo, ciao Le donne sono complicate da capire Nascondono segreti, sono contorte, vogliono comandare Hanno potere e denaro Questo stuzzica il mio lato seduttivo Devo mettermi subito al lavoro Non si fanno i figli e poi si lasciano in mezzo a una strada È già molto che ti abbiano concepito In ogni caso, il rancore porta solo ad allungare il dolore, sai? Ti ho prenotato la suite più bella dell'hotel Costume e scarpe da ginnastica sono sempre con me L'essenziale minimalista che fa il mio caso ihnen è miaanyè, mia numero uno Tenerte junto a mi Lo mi ti abbiano ma...